Sindaco, stanno in queste ore concludendosi i lavori di realizzazione dei piccoli alloggi all'interno dell'ex-Arcismon, insieme a quello stanno andando avanti anche l'operazione della ditta che deve liberare dai prefabbricati l'area di pregiato, insomma siamo arrivati al nocciolo della questione legata ai prefabbricati con questa operazione. Sì, alla luce della mia ordinanza sindacale 414 del 4 agosto 2014 si è avviato tutto un processo che culminerà entro dicembre 2015 con l'assegnazione di tutte le restanti case da realizzare a quanti ancora occupano legittimamente i prefabbricati e con lo smantellamento complessivo dei prefabbricati. In particolare si è già avviata l'opera di smantellamento dei prefabbricati nella zona di Pregiato e di Santa Lucia, anche se a Pregiato gli occupanti senza titolo hanno inscenato una protesta che però verrà sicuramente affrontata e risolta perché c'è un coordinamento delle forze di pubblica sicurezza e di polizia. Peraltro chi si oppone all'ordinanza sindacale incorre anche in un reato penale per cui si interverrà nei prossimi giorni per liberare queste aree da chi le occupa senza nessunissimo titolo. Si procederà in questa maniera con il cronoprogramma che prevede in quell'area di eliminare finalmente i prefabbricati e di realizzare gli 84 alloggi che entro dicembre 2015 saranno assegnati. Tutto ciò grazie all'intervento economico del Comune che si è fatto carico anche di anticipare i fondi stanziati dalla Regione per l'eliminazione delle baracche, 800 mila euro, e per far fronte al 50% degli stati di avanzamento lavori che la ditta urania che fa parte del Consorso di Valore aggiudicatario della realizzazione degli appartamenti a Pregiato dovrà realizzare in questi mesi. Insomma siamo particolarmente soddisfatti che l'impostazione che è stata data ad agosto sta di fatto andando avanti. Vedremo con i giornalisti già nei prossimi giorni gli alloggi parcheggio realizzati nell'exagismo. A fine mese si assegneranno i 24 alloggi a Pregiato che ormai sono completati, si stanno facendo le pratiche per gli ascensori, quindi anche questa vicenda dolorosa, ultratrentennale, si sta portando a risoluzione con grande impegno da parte della nostra.